Oggi Roberta Giordani ci legge Chi trova un pinguino, scritto e illustrato da Oliver Jeffers per le edizioni Zoo Libri di Reggio Emilia. C'era una volta un bimbo che un giorno trovò un pinguino davanti alla porta di casa. Il bimbo non aveva proprio idea da dove il pinguino fosse saltato fuori, ma quello intanto si mise a seguirlo ovunque. Il pinguino sembrava molto triste e il bimbo pensò che si fosse smarrito. Decise così di aiutare il pinguino a trovare la strada per tornare a casa sua. Subito controllò all'ufficio oggetti smarriti, ma nessuno aveva smarrito un pinguino. Poi chiese ad alcuni uccelli se sapessero da dove venisse il pinguino. Ma quelli lo ignorarono del tutto. Alcuni uccelli sono fatti così. Il bimbo chiese allora alla sua paperella, ma questa sguazzò via. Non aveva proprio idea. Quella notte il bimbo non riuscì a dormire per la preoccupazione. Avrebbe voluto aiutare il pinguino, ma proprio non sapeva come. La mattina dopo scoprì che i pinguini vengono dal polo sud. Ma come arrivare fin là? Corse al porto e urlò a una nave gigantesca di portarli fino al polo sud. Ma era troppo piccolo perché la sua voce si potesse sentire fin lassù. Così, insieme, lui e il pinguino decisero di raggiungere il polo sud. Il bimbo tirò fuori la sua barca a remi dal ripostiglio. E insieme la prepararono. Impacchettarono ogni cosa necessaria al viaggio. E sempre insieme, spinsero la barchetta in mare. E rimarono verso sud per molti giorni e molte notti. Nel mentre, il bimbo raccontava storie senza sosta. Il pinguino ascoltava tutto quello che il bambino diceva. Navigarono affrontando il buono e il cattivo tempo. Con le onde grandi come montagne. Finché giunsero al polo sud. Il bimbo era felicissimo. Ma il pinguino taceva. Improvvisamente, appena il bimbo lo aiutò a uscire dalla barchetta, tornò ad essere molto triste. Il bimbo salutò il pinguino. Ciao, ciao. E rimò via. Ma, guardando indietro, il pinguino gli sembrò più triste che mai. Era così strano trovarsi lì, da solo. Più ci pensava, più capiva che stava facendo un grosso errore. Il pinguino non si era smarrito. Semplicemente si sentiva solo. Girò rapidamente la barchetta e si diresse di nuovo verso il polo sud, il più velocemente possibile. Raggiunse così ancora il polo sud, ma il pinguino non c'era. Era finito. Il bimbo cercò ovunque, ma del pinguino nessuna traccia. Tristemente, il bimbo risalì in barca per tornare a casa. Ora, non aveva alcun senso raccontare storie, perché nessuno le poteva ascoltare, a parte forse il vento e le onde. Poi, il bimbo vide qualcosa in acqua dritto davanti a sé. Si avvicinò e si avvicinò finché riuscì a vedere il pinguino! Così, il bimbo e il suo amico pinguino tornarono a casa insieme, raccontandosi cose meravigliose per tutto il viaggio. Per tutto il viaggio. Sous-titrage Société Radio-Canada